Questa è una pubblicità per Mattel Bambini, mi aiutate? Andiamo, Vlad! Bimbi, aiuto! Va bene, mamma! Bimbi, vi prego, aiutatemi! Mamma, dobbiamo diventare più forti! Ci serve forza dentro! Sì! Andiamo! Andiamo! Wow, è enorme! Dovete compiere il percorso a ostacoli tre volte e diventerete più forti! Come le superstar del wrestling! Sono pronta! Forza, ragazzi! Andiamo! Ah, sì! Di qua! Forza, forza, forza! Forza! Forza, ragazzi! Fantastico! Sì! Andiamo! Oh, sì! Finito! Sì! Ah, cosa? 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 Forte! Wow, wow! Wow, sembro Giazzina! Più sono più forte! Grazie, ragazzi! Prego, mamma! Sì! Prego, mamma! Colpite le scatole per le sorprese! Mamma! Mamma! Prima io! Undertaker! Wow! Wow! È Drew McIntyre! Roman Reigns! Forte! Altre superstore del wrestling! Che divertenti! Apriamo e giochiamo! Sì! Wow! Undertaker col bagile! Questa è la mia squadra! Ecco la mia squadra! Comincia lo spettacolo! Sì! Via! Bam! Più! Boom! Oh, no! Dai, Rock! Dai, Rock! Sì! Ho vinto io! Ti aiuto, Rock! Boom! Mickey, giochiamo con tutta la squadra! Sì! Pugno potente! No! 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 Oh, oh! Abbiamo esagerato! Sì! Aiutiamo la mamma! Ah! 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 Siete i miei campioni! Lavorare insieme è un sogno! Esatto! Sì! Grazie, Mattel, per aver pagato i costi di questo video!